Ma se dal territorio non proviene forte un'indicazione di quello che il territorio vuole, è evidente che la Regione non può assumere alcun ruolo in questo processo. Viceversa, se si deciderà di ridefinire la missione, e chi mi ha preceduto lo ha un po' anche illustrato quale potrebbe essere un nuovo ruolo, è evidente che la Regione non lascia solo questo territorio, a condizione che ovviamente questo sbilancio, il deficit di bilancio, che poi anche lì va un po' approfondito perché io ho letto la relazione del Commissario, è come dire a maglie larghe, quindi poi andranno approfonditi alcuni aspetti, ma fermo restando che la responsabilità nel ripianare il deficit ovviamente è formalmente degli enti consorziati, quindi dei comuni che fanno parte dell'ente stesso. Io credo che su queste poche idee lo dobbiamo pressare, al di là del dibattito anche sui giornali che si è andato sviluppando come se il problema adesso è ricostituire il Consiglio Generale.